Colpo di scena sull'ultima polemica innescata nei confronti di presunte dichiarazioni fatte da Beppe Grillo. Il leader del Movimento 5 Stelle, sappiamo tutti, che ha rilasciato un'intervista al Time e nello specifico alla giornalista Stefan Faris, autore dell'articolo. Qui in Italia, e per essere ancora precisi, il Corriere.it riporta che Grillo nell'intervista avrebbe detto se falliamo noi ci sarà violenza nelle strade. Adesso arriva una puntualizzazione dallo stesso giornalista del Time. La citazione del Corriere.it è fuori contesto, dice. Giusto per essere chiari, Grillo, in nessun passo dell'intervista, ha detto che ci sarebbero state violenze. Anzi, stava chiarendo che la rabbia del Paese si era incanalata all'interno di un dibattito democratico che offriva proprio M5S. Sul blog di Beppe Grillo, il giornalista, sempre del Time, aggiunge che il Corriere.it ha avuto negligenza e ricerca di sensazionalismo, mentre avrebbe dovuto usare maggiore attenzione su quanto riportato. Per finire, comunque, viene pubblicata anche l'intera intervista, a scanso di ulteriori equivoci.